A poco più di due settimane dal suono della prima campanella, nella nostra regione si fanno già i conti con la mancanza di insegnanti di sostegno, ma anche con la presenza di troppi professori precari in cattedra. Il quadro, come spiega ai nostri microfoni il segretario interregionale Abruzzo Molise della CISL Scuola Davide Desiati, desta delle preoccupazioni. Sono soliti problemi purtroppo dovuti a questo alto numero di precariato che sul sostegno ha un'incidenza gravissima. Tanti insegnanti di sostegno servono in Abruzzo, circa 2300 posti in deroga, quindi in aggiunta alla normale dotazione, ma sono insegnanti non specializzati, insegnanti che non hanno seguito un percorso specifico per operare con gli alunni disabili. Allargando il discorso invece agli insegnanti in generale, qual è la situazione? Si parla tanto di precariato nella scuola, questo riguarda anche la nostra regione? Purtroppo sì, anche da noi i tassi di precariato sono altissimi, è necessario anche in Abruzzo questo piano di stabilizzazione del personale, parlavamo anche del sostegno, in particolare sul sostegno. Lì ci sono centinaia e centinaia di assunzioni a tempo indeterminato possibili, già da oggi, quindi bisogna fare presto perché tra l'altro si tratta dell'anello più debole della nostra scuola. Lo scorso anno i numeri dei pensionamenti sono raddoppiati, da 439 se ne sono aggiunti altri 533 con quota 100. Ci aspettiamo la stessa cosa ovviamente negli altri due anni di sperimentazione di questa uscita anticipata dal sistema lavorativo, ci aspettiamo gli stessi numeri se non in aumento, perché bisogna considerare che lo scorso anno la norma è arrivata in corso d'opera. Quest'anno le persone hanno avuto tutto il tempo di valutare la propria uscita, la propria convenienza nel soffrire di quota 100.